Buongiorno, bentrovati, benvenuti alla rassegna stampa del sabato mattina. Un saluto anche a tutti coloro che ci seguono durante le repliche della mattinata e poi alle 13.30 e anche a coloro che non essendo vicino a un televisore ci possono seguire attraverso Facebook. Un saluto a tutti voi, un buon inizio di mattinata. Naturalmente come sempre facciamo, occhio ai giornali, guardiamo le edizioni locali di Resto del Carlino e Corriere Adriatico. Il Resto del Carlino, vi dico subito che questa mattina sulla piattaforma digitale non erano disponibili le edizioni locali, non tutte perlomeno, quindi insomma ci sono stati problemi, non era disponibile quella di Pesaro e quindi avremo soltanto il Corriere Adriatico. Ma procediamo con ordine, come sempre guardiamo l'almanacco del giorno e poi le previsioni del tempo, la proiezione per le prossime 48 ore. Allora, oggi è sabato 28 ottobre, la Chiesa ricorda due apostoli, Simone e Giuda. Il sole è sorto alle 7.38 e tramonta alle 18.05. Previsioni del tempo, diciamo, sono più che altro all'insegno del bello, barra, insomma, variabile, comunque sereno, poco nuvoloso, aumento delle nuvi alte in serata, nessuna precipitazione, le temperature, insomma, come giusto che sia, sono in diminuzione visto il periodo e quindi, insomma, vedete sulla costa e su gran parte della regione Marche sole, sole pieno. Anche per domani, più o meno, insomma, sono nel zuppo e pan bagnato, anche qui sereno, poco nuvoloso, maggiori addensamenti sui rilievi, precipitazioni assenti e temperature leggermente in aumento. Comunque sarà un weekend di tempo sereno. Anche per lunedì, più o meno, la tendenza è la stessa, soltanto nelle basse Marche, come vedete dalla simbologia, c'è un'intensificazione dei fenomeni nuvolosi e anche qualche precipitazione durante la notte. Però la tendenza, comunque, sarà per i giorni successivi allo stabile e al soleggiato, quindi un fine settimana abbastanza regolare dal punto di vista del tempo. Tra l'altro ci sono ancora feste dedicate, fiere dedicate al Tartufo, Sant'Angelo Invado, poi si apre a Qualagna, quindi, insomma, tante occasioni anche per fare un'uscita fuori porta, come si dice. Guardiamo i giornali, il giornale, il Corriere Adriatico, ve lo faccio subito vedere. Apriamo la pagina di apertura e a centro pagina, naturalmente, essendo il quotidiano in Ancona, grande rilievo per l'incendio all'ospedale, torrette, una stanza invasa dalla fumo, allarme del personale, vedete la foto del letto andato in fiamme, anche i pazienti in fuga, un leggente accende il fuoco a malattie infettive, letto in fiamme, si scatena il parapiglia, il panico. E poi in testa di pagina, chioschi, giardini e bancarelle, il porto diventa una passarella, fondi d'Europa, passeggiate al mare, si allungo fino a Cala, Duilio, siamo a Pesaro. Poi c'è un lancio sulla Vis, Caccioli, Sprona, la Vis, obbligati a ripartire forte. Poi nelle pagine dedicate ai sapori e ai gusti della nostra terra, le ricette di uno chef, Danilo Bey, e in testa di, in fondo alla pagina, la cronaca, banda armata con pistole nella sala scommessa, scommesse in via Ponchielli, minacciati quattro dipendenti. Partiamo da Fano però e da Torre, e da Ponte Sasso, dove finalmente si sono messi un po' il cuore in pace gli abitanti per delle opere infrastrutturali importanti che sono state portate avanti dall'amministrazione comunale e in quel posto l'imputato principale sul banco era il Rio Crinaccio ed ora è stato messo, possiamo dire sicuramente, un punto fermo su questa situazione, sopra luogo della giunta Ponte Sasso, perché è stato messo in sicurezza il Rio Crinaccio, qui vedete assessori, sindaco e anche cittadini, sul nuovo ponte, il ponte pedonabile, che poi sarà anche ciclabile, una volta che verrà fatta la pista che collegherà Fano e Senigallia, Marotta e Senigallia, questo progetto di questa pista ciclabile che attraverserà un po' tutte le località balnearie della costa adriatica da peso in giù e insomma grande orgoglio per questa opera importante perché è stato allargato anche il lume che ospita il lume della struttura, che ospita il Rio Crinaccio che era il punto critico dove avvenivano le esondazioni, ma le ferrovie devono rifare il sostegno a volta e demolire il sottopasso, nel senso che praticamente il sottopasso che prima era anche pedonabile a fianco al canale, ora verrà completamente chiuso perché si sta costruendo un nuovo sottopasso pedonabile e ciclabile proprio per accedere dalla nazionale verso il mare. E poi un bel fatto di cronaca, cronaca a lieto fine, trova una borsa al cimitero e la riconsegna ai vigili urbani, soldi, telefono e patente, era di una donna anziana, una 84enne, che lo aveva smarito al cimitero e conteneva ben 430 euro cellulare e patente, probabilmente anche si trattava della sua pensione, quindi sicuramente il ritrovamento gli ha fatto molto molto piacere. Allora anche da Fano cronaca, come avete visto nel lancio di apertura della pagina principale, però si parla di un'auto rubata, che è stata tentata di essere venduta in un concessionario fanese, però il suo titolare ha sgamato i due, due di origine napoletana, un uomo e una donna, che avevano portato quest'auto a far vedere al concessionario, però contraffatti diverse cose nella macchina, tra cui anche il numero di serie del telaio, sono stati scoperti e quindi denunciati. Poi pattuglie ridotte di un terzo, in realtà c'è un incremento, la polizia stradale replica ai dati del sindacato sull'accorpamento, ecco vedete la sottosezione autostradale di Fano, Fano non un dimezzamento ma una riduzione di un terzo, questi sono i dati presentati dalla polizia stradale, proprio sugli strali della cronaca che aveva parlato, le forze politiche avevano parlato proprio di un dimezzamento dei numeri dei controlli e dei pattugliamenti. Adesso si parla di politica nella pagina 42 e si rilancia con quattro nuovi segretari, ecco gli organismi rinnovati, Pucci, il segretario comunale del PD, che lo vedete nella foto con sette degli otto segretari di circolo, dice partito più presente e incisivo. E poi rimosse le roulotte abusive in Viale Kennedy, quattro blitz dei vigili urbani, quattro roulotte sgomberate, insomma rimosse forzatamente, con due carriattrezzi, otto sono state sanzionate, due addirittura trovate senza assicurazione, e perché anche prive di motrice, cioè lasciate proprio lì a mo' di abitazione. Ridere senza censure, all'Infoshop oggi e domani, vignette e fotomontaggi degli autori satirici, il Fano Poli, la satira in città, si inaugura oggi in via da Serravalle, una mostra di vignette e fotomontaggi più amati da autori e da artisti della satira. E qui ne vedete un esempio. Allora cambiamo la città, andiamo a Pesaro, avete letto sulle pagine dei giornali la polemica sulla bambolina voodoo, legate ad Halloween, e adesso nell'articolo del Corriere Adriatico l'assessore Vimini liquida la cosa in questo modo, dice una forzatura comunicativa, non un corso diabolico, e quindi l'assessore Vimini sul caso della bambolina voodoo, intanto le firme di protesta sono arrivate a oltre 5.700. Ancora la cronaca nella pagina che riguarda Pesaro, pistole addosso, fuori i soldi, tre banditi rappinano nella notte la sala scommessa Wind City di via Ponchielli e fuggono con 20.000 euro, all'interno c'erano 4 dipendenti che sono stati costretti a consegnare le chiavi, la polizia acquisisce le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ecco qui la sala scommessa rappinata nella fotografia. Anche il PD Pesarese ha tenuto un congresso nella stazione Gauss a Pesaro, Gostoli bis, la sfida dei candidati, nomi forti e legati al territorio, vedete il segretario del PD Gostoli alla stazione Gauss durante la riunione e la segretaria Paola Andruccioli. Ancora nelle pagine però di Urbino si parla di tasse, tributi locali, il ravvedimento operoso diventa lunghissimo, passa all'unanimità la delibera che consente sempre di correggere errori o evasioni fiscali, un regolamento approvato dal Consiglio Comunale di Urbino giovedì scorso. Il vantaggio, dice Maura Magrini, assessora al bilancio di Urbino, è doppio, sia per i contribuenti che per il Comune. Ancora nelle pagine di Urbino c'è un gemellaggio con la vicina Pietralunga, si parla di questo gemellaggio, il sindaco vadese e quello ospiti oggi si sfidano ai fornelli. Siamo appunto, come vi dicevo, a Sant'Angelo in vado per l'ultima giornata della 54esima mostra nazionale del tartufo bianco delle Marche, un appuntamento che ha potuto e saputo convogliare nell'Alta Val Metauro migliaia e migliaia di persone negli scorsi fine settimana. E poi si parla di un sito bellissimo, un sito naturalistico bellissimo delle nostre parti, ovvero sia la Gora del Furro e le sue meraviglie autunnali. Domani c'è un birdwatching e visita anche alla diga dell'Ener che sarà aperta per l'occasione al pubblico. Quindi ci sono qui tutti i numeri dove telefonare per prenotare la visia di domani, insomma una passeggiata organizzata nella riserva che sicuramente darà grande soddisfazione ai suoi partecipanti. Dalla Val Cesano, incidenti a catena in autostrada, appunto si parla di ciò che è avvenuto nel tratto autostradale tra Fano e Marotta ieri mattina, gravi ripercussioni sulla strada statale adriatica, viabilità locale andata in tilt ieri mattina perché l'autostrada è stata chiusa per diverse ore, il tutto a partire dalle 7.50, due incidenti diversi ma concatenati perché uno è stato la conseguenza dell'altro, tra Fano e Marotta verso sud, tratto sud della A14, bloccato per i soccorsi e le code sono arrivate anche fino a 5 km di coda, insomma, quindi è stata una mattinata impegnativa per tutti quanti, operatori del traffico e anche per utenti della strada. E poi si registra una cronaca che purtroppo continua a rimbalzare, sembra quasi una cadenza, insomma le truffe ai danni degli anziani, ogni tanto se ne inventano una e adesso arrivano le telefonate ai pensionati che chiedono soldi o offrono addirittura lavoro. Alcuni episodi sospetti nella Val Cesano, siamo a Mondolfo, telefonate anonime con offerte di lavoro e allarme perché insomma quando queste superano un certo numero non si parla più di un caso isolato ma di una vera e propria operazione di truffaldina da parte di qualcuno. E poi la BCC di Pergola finanzia i lavori per il restauro della Fontana, il progetto Art Bonus di cui anche a Fano abbiamo avuto esempi importanti e poi il consigliere regionale in fondo di pagina c'è questo articolo che lo riguarda e dice i numeri testimoniano il mio impegno sul territorio e il consigliere regionale Boris Rappa ha incontrato il presidente della cooperativa di Tre Ponti per un bilancio di quanto è stato fatto per rilanciare il territorio. Insomma, quindi ritornando sulla questione delle truffe agli anziani insomma mi raccomando prestate attenzione perché ogni tanto dopo che una è stata un po' abusata e usata e insomma ci si come dire mette con le antenne dritte ne inventano un'altra e quindi insomma state sempre comunque con le antenne dritte perché sono sempre dietro l'angolo i malintenzionati. Ancora a Senigallia l'ultima pagina che vi faccio vedere non essendoci il resto del Carlino in formato digitale questa mattina per quanto riguarda l'edizione locale terminiamo con la pagina di Senigallia e si parla appunto di studenti che sono stati in troppe ad essere accolti nelle classi al liceo medi e violate le disposizioni il preside ha scelto di non lasciare fuori nessuno quindi la provincia permette un intervento risanatore quindi insomma classi un po' affollate già in programma un incontro con tutti i soggetti interessati qui vedete Liliana Serrani presidente della provincia e poi l'originale cartello stradale eccolo qua a Scapezzano ci sono bambini allevati all'aperto rallentare lo faccio vedere rallentare perché sono bambini allevati all'aperto forse scapezzano questa affissione così un po' particolare probabilmente perché ci sono bambini che giocano un po' sulla strada e qualche buon tempone ha voluto mettere sul chi va là gli utenti della strada bene questa è l'ultima pagina che vi facevo vedere per quest'ultima rassegna stampa della settimana o che giornali tornerà lunedì mattina puntualmente alle 7.30 e quindi buon fine settimana a tutti voi a tutti